Ci sono delle storie di sport che ci piace raccontare, ci piace raccontarle con il protagonista che a distanza di tanti anni dopo aver passato una vita in primis da giocatore e poi anche per altre cose, ha fatto l'allenatore, diciamo giusto qualche numero, 200 gol fatti nella sua carriera, tre promozioni, sai sono tutte cose Stefano Udassi che ci piace ricordare perché? Perché sinceramente vederti nei panni di presidenti di questa gloriosa società che risponde al nome di Torres, credo che sia già di per sé un motivo per dire l'intervista finisce qua. Guarda, le tue parole mi fanno emozionare, vedo anche la tua emozione, quindi è doppia, sì è un percorso bellissimo, una bella storia, in dubbio che insomma c'è l'orgoglio e anche la responsabilità perché comunque è un impegno importante ma che ci siamo presi con grandissimo entusiasmo e con grande passione insieme alla proprietà e quindi insomma dai ci aspetta una bella avventura e ce la vogliamo godere. a fare i spenti perché questo è il tuo credo, noi ti abbiamo seguito nel corso della tua carriera lo sai, a parte l'amicizia che ci lega però mi faceva davvero un po' specie non ricordare i vari punti della tua carriera perché tu sei stato in primis un ottimo giocatore, ti ha contraddistinto sempre la tua serietà, serietà che poi hai portato subito dopo il finire la tua avventura calcistica, peraltro una decina di anni fa, se non sbaglio proprio a Castelsardo, a iniziare la carriera da allenatore, è un patentino UEFA, insomma è una cosa importante perché poi alla fine con il tuo modo di fare, mai fuori dalle righe, con difendere a spada tratta tutto quello che era il lavoro dei tuoi ragazzi e dei tuoi dirigenti e ti ha portato a questo punto. Come sarà Stefano D'Assi presidente? Ti immagino già con un bell'abito però sempre con l'occhio rivolto al campo Stefano. Sì, sì, in dubbio che diciamo che questo è stato un percorso che mi ha portato ad avere questa opportunità, grandissima opportunità da parte della proprietà di Abinsula e quindi diciamo che è un percorso che si chiude, ma che si apre, quindi una nuova avventura, però ti dico questo, stiamo parlando troppo di me, quindi io vorrei invece parlare di Torres che è la cosa fondamentale. Per quanto mi riguarda, ripeto, come ho detto prima, c'è tanto lavoro da fare, ma lo stiamo affrontando con entusiasmo e come hai detto tu, giustamente con un profilo sempre basso, ma non perché non siamo ambiziosi, questo assolutamente, però non ci piace proprio per una missione aziendale fare proclami altisonanti. Promettiamo tanto lavoro, tanta serietà, entusiasmo, passione e anche competenze perché ci sono delle competenze, e questo sicuramente lo possiamo promettere. Stefano, chiaramente non è un incensare Stefano D'Assi, attenzione, però ripeto, per quanto mi riguarda, per come intendo io focalizzare l'attenzione sul Stefano D'Assi anche personaggio, no? Io ricordo nel 2000-2001 che qua hai ricevuto una soddisfazione grandissima, c'è stata una promozione, una di quelle cose che probabilmente per lo Stefano D'Assi in primis giocatore e poi successivamente nelle altre fasi della tua vita sono indimenticabili. Perché? Perché questo è uno stadio che dà tanto. Sì, 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 ma qua trassù dà proprio emozione. Quando penso a quel momento, a quei periodi, è indubbio che il sogno è quello di raggiungere quei momenti. È indubbio che il tifoso Torresino si aspetta tantissimo, c'è tanta attesa e tanta aspettativa. Noi siamo qua per cercare di ricreare veramente quell'ambiente, quell'entusiasmo, quella passione, quell'amore per la maglia. Siamo convinti di poter fare un buon lavoro, abbiamo bisogno di tutti, siamo aperti alla crescita verso il territorio, verso il nord di Sardegna, ma non solo. Vorremmo ritornare a essere un punto di riferimento per la Sardegna, con grandissimo rispetto per tutti e con l'umiltà che ci contraddistingue. Io ti ringrazio per le bellissime parole, sai bene la stima che ci lega da tanto tempo, l'amicizia e io ti ringrazio, è bello comunque sentire queste parole. Ma ti dico anche che ringrazio, lo faccio in questo momento, io non sono un uomo social, però ho avuto modo di seguire, di leggere, so che la mia città mi vuole bene perché, come dici tu, ho sempre avuto un approccio di educazione prima di tutto, di rispetto e gli attestati di stima che ho avuto privatamente su WhatsApp, ma pubblicamente sui social, mi hanno emozionato, mi hanno reso orgoglioso, devo essere sincero. Adesso si è al timone di questa società, naturalmente ti facciamo i migliori auspici per quello che andrà in itinere per questa società. Tanto lavoro, questo lo sapevamo, tanto impegno da parte di tutti, il riavvicinarsi, che sarà notevole anche dal punto di vista numerico, questo te lo dico fuori onda dal punto di vista della tifoseria. E poi, perdonami, non è un amarcordio, però io un pensiero lo faccio anche a una persona che non c'è più, Angelino, e tu sai benissimo che questa è una cosa, ulteriore cosa che ci lega, Stefano. Prima parlavo di quello che è l'uomo che sono diventato, non l'ho voluto dire perché altrimenti... Ma lo dico io perché stai, ti capisco. L'altro giorno parlavo con una persona ed ero qua seduto allo stadio e stavo facendo un'intervista, era un'intervista telefonica, non mi sono reso conto. Mentre parlavo, poi mi sono reso conto che mentre parlavo ero proprio seduto nel posto dove si sedeva mio padre quando c'erano le partite della Torres. E quindi insomma, dai, mi sono emozionato. Poi mi sono affacciato dalla parte della Curva Sud e ho visto la casa, il palazzo dove sono nato. Quindi insomma, dai, un po' di amarcordio ci sta, dai, è normale, un po' di ricordi ci sono legati a delle stagioni bellissime. Però adesso si apre... Quello fa parte della storia. Noi, insomma, vorremmo aprire una pagina bianca e scriverci sopra un bel libro. Tante pagine bianche. In bocca al lupo, grazie del tempo che ci hai dedicato, naturalmente è come si dice in gergo, forza a Dorres. Forza a Dorres. Grazie a Creppi e Lupo. Grazie mille.